un antico catechismo evangelico inizia in questo modo domanda in che consiste la tua unica consolazione in vita e in morte risposta nel fatto che con il corpo e con l'anima in vita e morte non sono più mio ma appartengo al mio fedele salvatore gesù cristo il quale con il suo prezioso sangue ha pienamente pagato il prezzo di tutti i miei peccati e mi ha liberato da ogni potere del diavolo e mi preserva così che neppure un capello può cadermi dal capo senza la volontà del padre mio che nei cieli ed anzi ogni cosa deve cooperare alla mia salvezza pertanto per mezzo del suo santo spirito egli mi assicura anche la vita eterna e mi rende di tutto cuore volenteroso e pronto a vivere d'ora innanzi per lui Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti